84 incidenti stradali nel 2017 nel territorio di Sondio, 49 i feriti. L'anno precedente furono 83, nel 2012 erano 104. I dati sono contenuti nella relazione e sull'attività della Polizia Locale Sondriese. 11.482 le sanzioni accertate su strada. Le persone pizzicate al volante mentre utilizzavano il telefonino sono state 140, quasi il 49% in più rispetto a 2016. Meno 17,40% per le multe legate alla sosta dei veicoli. Al contempo gli ausiliari hanno totalizzato 6.267 accertamenti, l'8,24% in più rispetto all'anno precedente. Sostanzialmente in riduzione il numero delle violazioni statiche, quindi la grande famiglia delle soste, che si riducono di circa 500 accertamenti, mentre in preoccupante aumento risultano alcune violazioni. Faccio riferimento alla guida senza cintura di sicurezza, alla guida con l'uso di cellulare, alla grande famiglia delle velocità, al superamento di semaforo rosso, tutta una serie di violazioni che registrano purtroppo un tendenziale aumento. Le 150 telecamere del sistema di videosorveglianza in servizio a Sondio in Valmalenco e i nove portali di lettura targhe hanno permesso di scoprire veicoli non revisionati, 245 casi nel 2017 e il 44% in più rispetto al 2016, o non assicurati. Noi siamo qui davanti al nostro sistema di videosorveglianza che si compone non soltanto di telecamere di prevenzione, collocate nelle varie vie e piazze cittadini, ma anche di un sistema di lettura targhe ci aiutano anche nella attività di prevenzione di alcune tipologie di violazioni stradali. Faccio riferimento appunto alla guida con veicolo non coperto da assicurazione oppure non sottoposto a revisione. Il sistema lettura targhe in accordo con prefetture e province di Sondio verrà potenziato entro l'autunno ed è anche in vista un concorso per assumere 4 nuovi agenti. Oggi sono 18 le unità operative a Sondio, 4 in Valmalenco, la polizia associata ha totalizzato 750 accertamenti.